Siamo alla trentatreesima lezione, innanzitutto vediamo di correggere le versioni precedenti. Cerco di essere un pochettino veloce, se no non finiamo più. Il destino vince sempre. E già come vedete una frase complessa, che a un certo punto ci obbliga in qualche modo a ragionare. Senex quidam. Allora, senex quidam fa parte della principale perché non ci sono particelle subordinanti. Quindi su questa cosa dovreste andare a vedere già sul mio manuale e vedere un momentino come si presentano le subordinate, le subordinate in latino, da che cosa vengono introdotte. Poi inizia una proposizione relativa. Quindi un certo vecchio, che io posso tranquillamente tradurre un vecchio, qui che aveva un solo figlio e dirigeva Teum e amava lui moltissimo. Poi abbiamo cum e il congiuntivo. Cum olim, cum vidisset. Vidisset, congiuntivo composto, gerundio composto. Avendo visto un giorno in sogno, che cosa? Un leone. Un leone. Evidentemente non è il figlio suo che divore il leone, ma è il leone che divore il figlio suo. Qui bisogna anche andare un momentino a senso, con l'intuizione. Un leone divorante suo figlio. Poi il participio presente, l'abbiamo già visto, lo traduciamo, che divorava suo figlio. Timuit, valde. Eccolo qui, la proposizione principale. Se ne squidam, vi fa valde Timuit. Proposizione principale. Temette molto. E? Cosa fece? C'è la coordinata principale, abbiamo un atque. Clausit. Chiuse. Adulescente, il giovane. Sempre il complemento oggetto dopo. Dove, in una torre, edita, sicura e munita, alta e munita. Ne, ne, inveniret. Ne, inveniret una finale, affinché non trovasse, letteralmente, questo esito di vita tanto orrendo. Perché non trovasse, esitum vitae, può essere una morte, perché non andasse incontro a questa morte tanto orrenda. Cum, vedete, amaret, quindi non è proposizione principale se c'è alcun bel congiuntino. E puer è il soggetto. Tuttavia, il ragazzo, cum amaret, amando, tempo semplice, corrisponde a gerundio semplice, amando, venazione, la caccia, valde, molto. Pater è qui, decisamente, non essendoci nessuna particella subordinante, qui c'era la particella subordinante, cum. Questa fa parte della principale. Il padre, e poi questo padre è interrotto da una subordinata finale, affinché la solitudine non fosse fastidiosa a lui, affinché la solitudine non gli fosse fastidiosa, il padre, imperaverat, aveva comandato ai servi, ut. Letteralmente sarebbe affinché dipingessero, che cosa? Plurima e superlativo di multus, irregolare, moltissimi animali, in parete turi, sulla parete della torre. Attenzione però, ve lo dico già fin d'ora, anche se il testo che io riporto non l'ho ancora riferito a questo argomento, questa non è una finale. Aveva comandato ai servi, io non comando a qualcuno affinché, ma comando ai servi di, oppure che. Questa non è una finale, ma è un'esplicativa. Aveva comandato ai servi di dipingere sulla parete della torre moltissimi animali, interque, tra i quali il leone optinevato, occupava locum primum, il primo posto. Vedete sempre che io parto dal soggetto, Leo Leonis, no? Primum locum, complemento oggetto. Quindi, poi come vedete, come vi ho sempre detto, quando c'è una preposizione, propria o impropria, specialmente l'inter, è chiaro che si può tradurre subito, anche prima del soggetto. Inter vuol dire tra, tra i quali, no? Tra i quali. E poi subito, nominativo, predicato verbale, complemento oggetto. Andiamo avanti. Set puer, cum et vi disset, valde suscensuit, et leonem spectans inquit. Attenzione, eh? Quando c'è un discorso diretto, io devo prendere l'inquit, o il dixit, o l'ait, che è messo all'interno del discorso diretto, e tirarlo fuori. Quindi, set puer, cum et vi disset, valde suscensuit, et leonem spectans inquit. Perché? Ma perché questo inquit è il verbo principale. Perché qui abbiamo cum et vi disset. Ah no, non è il verbo principale, è la coordinata, la principale. Perché il principale è suscensuit. Però, et, dixit, et inquit. Quindi, la principale è sed puer, suscensuit valde, et, coordinata la principale, inquit. In ogni caso lo dobbiamo tirare fuori, eh? Non lasciamolo dentro, se no rimane una proposizione sospesa. Ma è giovane, il fanciullo, il ragazzo. Cum vi disset, ecco, avendo visto queste cose, o avendo visto questi, perché ecco è un neutro, potrebbe essere animale, avendoli visti, avendo visti questi, suscensuit valde, si, in alberò, si, in dispettì, molto, e spectans, spectans è il nominativo, quindi si riferisce a puer, dobbiamo vedere tutte le possibili traduzioni di participio presente. Qui va bene il gerundio. Guardando il leone, disse. Vedete? Che se non metto disse fuori, rimane guardando il leone. Invece, guardando il leone, disse. Pessima afer. Propter te in actur risum. O bestia pessima. Propter te, complemento di causa. A causa tua, a causa di te, sum in actur risum in questa torre. Itaque. Dicens manum imparietem vementer impegit ut leonem percuteret. Pertanto, qui potrebbe esserci un problema che noi lo superiamo partendo dal verbo principale. Impegit. Urtò. Che cosa? La mano violentemente contro la parete. perché io sono partito dalla principale? Perché c'è Dicens e verrebbe voglia il tentativo di dire dicendo la mano cercare un complemento oggetto. Invece, se io parto dalla principale non cado in questo trabocchetto. Pertanto, urtò la mano violentemente contro la parete. Dicens, allora, come lo traduco? Pertanto, parlando itaque Dicens e così parlando et ita Dicens e così e dicendo queste cose sottointeso ut percuteret leonem per percuotere il leone. sed tambemente parietem pulsando unum ex digitis vulneravit. Allora, ma anche qui andiamo alla proposizione principale altrimenti naufraghiamo. Ma ferì uno dei diti delle dita uno delle dita pulsando picchiando la parete tambe venter tanto violentemente. Ecco. oc autem vulnus cum sanguinem puericorrupuiset eum ad mortem tuxit. C'è di nuovo l'incidentale cum sanguinem puer corrupuiset. sanguinem puericorriset. Quindi la principale è quindi la principale è oc autem vultus tuxit eum ad mortem. Poi questa ferita condusse lui alla morte. cum corrupiset avendo corrotto avendo infettato sanguinem puericorris il sangue del fanciullo il sangue del ragazzo. Itaque fatum exitum suum abuit pertanto il destino abuit ebbe exitum sum il suo corso. Acque puer e il fanciullo il ragazzo ut insomnio fuerat come era stato nel sogno perse la vita propter leonem a causa di un leone. Calistinem qui un crimine di Alessandro. Calistinem filosofum Alexander propter superbiam etiram insontem interfecit. Noi sappiamo che Alessandro Magno era il racconto e quando ero ubriaco non ci pensavo due volte ad uccitare anche gli amici. Alessandro questo è il soggetto uccise chi? Il filosofo Calistinem tene insontem innocente. Propter superbiam ed ira per la sua superbia per la sua ira quando trovate obo propter l'accusativo è chiaramente un complemento di causa. Occas macedonum regis scelum eternum el scelus eternum col nulla virtus nulla bellorum felicitas redimet Allora questo è il delitto eterno del re dei macedoni che nessun valore nessuna virtù nulla felicitas bellorum nessun successo delle guerre redimet attenzione redimere terza coniugazione siamo le uscite esset emusetisent nella terza coniugazione questa uscita mi dà il futuro cancellerà non quotiens dicetis di nuovo siamo nella terza coniugazione quindi dicetis un futuro infatti ogni qualvolta direte uccidit persano multa miglia attenzione che miglia regge un genitivo migliaia di e regge il genitivo partitivo uccise molte migliaia di persiani opponam dirò di contro opporrò e uccidit calistinem e uccise calistene quoziens dicetis ogni qualvolta direte conquisivit omnia uscua docenum conquistò ogni cosa fino all'oceano e tentò lo stesso oceano ipsum classibus suis con le sue flotte dicam io dirò ma ha ucciso calistene etsi omnes reges gloria superavit ex omnibus rebus quasegit nulla tanta fuit quam calistenis cedes etsi è ricordatevi una congiunzione concessiva sebbene in sei latino l'indicativo in italiano il congiuntivo abbia superato omnes reges tutti i re gloria in gloria complemento di limitazione poi andiamo a cercare la proposizione principale cedes calistenis no vediamo un po' se riesco a trovarlo no andiamo avanti così allora perché la proposizione è nulla tanta fuit quam caedes calistenis nessuna fu così grande nulla nessuna perché stiamo parlando di 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 res nessuna azione fu così grande in senso negativo però qui quanto la morte e l'uccisione di calistene ex omnibus del rebus tra tutte le sue azioni quas egit che compì quindi sebbene superò in gloria tutti i re tra tutte le cose ex omnibus del rebus quas egit che fece nessuna fu così io qui avrei messo così grave così enorme quanto la morte di calistene quam cedisi un secondo termine di paragone quas egit attenzione è una proposizione relativa molto breve et ex omnibus rebus è un complemento partitivo ex biolablativo partenza della flotta ateniese per la spedizione di sicilia prima luce prima luce prima luce vuol dire all'alba alla prima luce magna moltitudino vironum e mulierum moltitudine soggetto una grande moltitudine di uomini e di donne aderat è composto di sum era presente nel pireo e cos'era il pireo il porto di atene gli ateniesi infatti indixerat bellum indixerat bellum vuol dire avevano dichiarato guerra i siracusani e tilladie e ladie un ablativo e in quel giorno classis che è il soggetto è un nominativo oltre ad essere un genitivo la flotta di loro e degli alleati e orum et sociorum paravat preparava di aprire le vele quindi si preparava ad aprire le vele gli ampli riquenaves con scenderant con scendo a leggere accusativo e con scendere navi vuol dire imbarcarsi ormai più si erano imbarcati erano saliti sulle navi elitore propinquos amicos que suos quisque etiam acque etiam conspicere tentavat dunque non cominciamo da propinquos e amicos e suos perché sono tutti complementi oggetti no? quisque tentavat eselitore eselitore vuol dire dalla spiaggia ciascuno etiam atque etiam ancora e ancora tentavat conspicere tentava di vedere chi complemento oggetto adesso arriviamo al complemento oggetto i parenti e i suoi amici propinquos et amicos suos non omnes e adem sensievant non tutti sensievant provavano le stesse cose ali spei pleni reditum et victoriem viam presumevant alcuni vedete pleni staconali pieni di speranza pregustavano già il ritorno e la vittoria ali altri longinqui belli pericoli temevano altri cosa facevano temevano che cosa complemento oggetto i pericoli della guerra lontana per repente tuba silenzio factum est e siamo al punto factum est traduce già fu fatto subito improvvisamente fu fatto silenzio tuba tuba è la tromba e tuba è un complemento di strumento con la tromba tum ut preco pronunziabit dis supplicazione in classe abite sunt et omnes duces et crossari aureis targentis populis liba verut allora ut con indicativo vuol dire come come il preco preconis e il il banditore come il banditore pronunziò non appena come il banditore come possiamo mettere lo disse lo annunziò cosa succede andiamo al verbo abite sunt furono tenute furono tenute abite sunt le suppliche agli dèi nella flotta e tutti vedete che io vado avanti ma vado avanti perché hai un nominativo sta roba qui eh il nominativo non lo vedo da omnes e da duces ma da classiari dove abbiamo nominativo della seconda perché qui omnes duces mi potrebbe dire poco potrebbe anche essere un accusativo e tutti comandanti e marinai liba verunt brindarono poculis auris et argenteis con bicchieri con calici d'oro ed argento letteralmente con calici aurei e argentei però in italiano non usiamo questa forma è un complemento di materia tradotto con l'aggettivo corrispondente e odem tempore i quindi tollerant adeis civitati victoriam petiverunt i odem tempore nello stesso tempo un complemento di tempo determinato quelli poi inizia la relativa che si trovavano sulla spiaggia cosa fanno petiverunt chiesero la vittoria civitati per la città adeis agli dei traduce già qui c'è una recenza particolare ma non stiamo ad affrontarla perché vi da già la traduzione del testo deinde peanem cecinerunt et isqui classi preerat sic imperavit quindi cantarono la peana non so se è giusto come lo pronuncio e un canto ad Apollo e isqui colui che preerat classi era capo della flotta così comandò notate che qui c'è una relativa qui classi preerat la proposizione principale è cecinerunt e poi c'è una coordinata alla principale che è questa et is sic imperavit solvite naves sciogliete le nami stati remiges remis innumerum mare percuserunt et classis e portu eccessi subito i rematori percossero il mare innumerum che vuol dire è una locuzione verbiale vuol dire regolarmente a tempo e la flotta uscì dal porto per multas oras elitore militum et nautarum propinqu classem epireo excedentem spectaverut per molte ore dalla spiaggia vedete che io lo traduco senza fare necessariamente la costruzione con il soggetto perché per multas oras più che tradurre per molte ore elitore dalla spiaggia ma poi mi fermo mi fermo perché perché ci sono dei genitivi io adesso devo andare a cercare il soggetto e il soggetto di spectaverut è l'unico è questo qua propinqu i parenti dei soldati e dei marinai guardarono la flotta flotta l'accusativo si attacca qui excedentem uscente dal pireo che poi questo participio presente posso trasformarlo che usciva dal pireo dei ind ultima nave si è cospetto recessi infine l'ultima nave si allontanò dalla vista tum demum trepidi ac sollicitin urbem reverterut attame nemo que futura essend ma la provvidevat allora alla fine vedete anche queste li traduco perché sono degli avverbi no? poi io ho dei soggetti plurale trepidi e preoccupati reverterut in urbe ritortarono in città tuttavia nessuno anche questo è un soggetto questo che que futura essend è una proposizione che viene dopo provvidevat mala provvideo vuol dire provvedere ma quando regge l'accusativo vuol dire prevedere nessuno prevedeva i mali le disgrazie que futura essend que futura essend è diciamo una dunque nessuno prevedeva i mali che sarebbero stati ma que futura essend ha la sensazione che sia un'interrogativa indiretta però non l'abbiamo ancora fatta però non va neanche bene in ogni modo qui abbiamo non non l'abbiamo fatto però questa cosa qui che dato che c'è come vedete un participio futuro e il participio futuro facciamolo trasformiamo trasformiamo allora necessariamente in una perifrasse cattiva abbiamo detto che quando c'è il participio futuro essere sul punto di stare per essere destinati a quindi nessuno prevedeva i mali che stavano per esserci no erano destinati ad esserci io avrei traferito tradurre che ci sarebbero stati ma questo che ci sarebbero stati è una regola che per ora non abbiamo fatto traduciamolo in questo modo futura participio presente che erano destinate ad esserci oltretutto qui c'è anche un'altra regola del congiuntivo in una subordinata relativa che deve essere tradotta invece all'indicativo italiano tenetela buona per ora la regola non l'abbiamo ancora affrontata però se vi interessa sul mio sul mio sul mio lavoro che ho fatto di latino c'è questa regola no quando in una subordinata c'è un congiuntivo e non riusciamo a tradurla col congiuntivo traduciamola con l'indicativo rispettando il tempo astuzia di Annibale quintus fabius maximus contando repubblica restituit quinto fabio massimo restituit rimise in piedi lo stato repubblica contando contando è un gerundio inablativo è l'unico caso in cui il gerundio latino può essere tradotto col gerundio italiano perché ha valore strumentale per mezzo del temporeggiare quindi temporeggiando nunquam come Annibale giusto preglio pugnavat sedeius viere sensis imminuevat dunque nunquam pugnavat dunque vuol dire non mai non combatteva mai con Annibale giusto preglio in battaglia aperta in battaglia campale ma imminuevat logorava un po' per volta sensum un avverbio che cosa vieres eius le forze di lui vieres non sono uomini eh se no serve scritto virus le sue forze olimeziam insidia osti paravit un giorno anche preparò un trabocchetto delle insidie osti per il nemico complemento di svantaggio se vuol dativo annibaleniem posquam omnes campania aclos vastavist et magnam predansibicom paravit in planizie quadam intermontes castra pochi annibalen infatti e qui inizia una temporale dopo che devastò omnes anglos campania tutti i campi della campania e comparavit sibi e procurò a sé un grande bottino vedete che c'è una temporale questa è un'altra coordinata alla temporale andiamo alla principale annibalen infatti pose in planizia quadam in una certa pianura intermontes tra i monti castra l'accampamento dun fabius maximus suis imperavit ut presidis proxima iuga montium occuparent et hostibus omnes fughe vias intercluderent allora quinto fabio massimo imperavit suis comandò ai suoi qui verrebbe voglia di una finale affinché ricordatevi come vi ho già detto prima che comandare a qualcuno di non è proprio una finale anche se si presenta come una finale non lo introduciamo col per e con la finché ma lo introduciamo col che di a quindi allora quinto fabio massimo comandò ai suoi di occupare che cosa complemento oggetto i giochi più vicini dei monti presidi scondei presidi e includerente sempre retto da ut e di sbarrare le vie della fuga ai nemici omnes stacom bias tutte le vie della fuga ai nemici eius iussu no c'è prima sedannibal callidam astuziam escogitavit qui è semplice ma annibale escogitò una astuzia una come possiamo dire una soluzione astuta perché astuzia ocalida ha lo stesso significato come dire un'astuzia astuta quindi una soluzione astuta eius iussu anno anno annonis questo nominativo frater super cornu amultorum boum arida virgulta ligavit ea incendit et boves notu per tenebra simpulit contra romanos qui utarmenta furibonda vitanent cartaginiensibus via per juga montium dederont allora iussu eius al suo ordine all'ordine di lui annone il fratello annone cosa fece verbo legò super corna sopra le corna di chi di molti buoi boum poi di molte vacche di molti armenti che cosa virgulta arida quindi come possiamo mettere degli sterpi aridi asciutti poi c'è una coordinata alla principale incenditea bruciò quelli incendiò quelli et di nuovo un'altra coordinata alla principale spinse chi complemento oggetto boves le vacche nottu di notte per tenebras attraverso le tenebre contro i romani e qui abbiamo finito come principale coordinata alla principale inizia una relativa che e poi inizia una finale vedete attenzione che questo che è bloccato da utarmente a furibondi a vitane questo qui si attacca ad Ederund i quali per evitare gli armenti furibondi i quali diedero che cosa la via la strada a chi ai cartaginesi per iuga monzium attraverso i giochi dei monti regina per opera di un'aquila cum rodofis quella pulcherrima in flumines eravaret e teius ancille vestem custodirent aquila quedam de celo lescedens alteram soleam arripuit e team ore tenens avolavit allora qui già iniziamo con una proposizione che non è principale perché cum regge come voi vedete la varet custodirent quindi questa prima parte è cum più congiuntivo la proposizione principale è quella che viene dopo aquila quedam de celo de ceden sartram soleam ripuit e poi c'è una coordinata alla principale eteam ore tenens avolavit con due participi presenti descedens e tenens dunque rodope bellissima fanciulla cum lavaret cum è il congiuntivo tempo semplice traduco col gerundio semplice lavandosi in un fiume e di nuovo cum custodirent eleancì e le sue serve le serve di lei custodendo la veste quindi la sua veste questo poi cum congiuntivo una volta tradotto tutto può anche essere trasformato in forma esplicita col mentre mentre rodope si lavava e le sue serve custodivano la sua veste andiamo alla proposizione principale aquila queda de cielo descedens descedens vedete che è un participio presente è al nominativo quindi si riferisce ad aquila aquila un'aquila questa queda posso benissimo utilizzare in italiano un articolo indeterminativo invece di dire una certa aquila che non sta per niente bene un'aquila descedens il participio presente ha diverse possibilità di traduzione qui adottiamo il gerundio scendendo dal cielo afferrò un sandalo vedete che un sandalo qui viene tradotto altera perché è uno tra due quindi vuol dire che ne prende uno dei due un sandalo et avolavit es evolovia tenens di nuovo il participio presente che noi anche qui traduciamo col gerundio tenendolo ore con la bocca col becco nec molto post benfim pervenit menfim giunse a menfi non era necessaria questa traduzione è un nome di città di piccola isola accusativo e quindi non c'è la preposizione stiamo parlando dell'aquila ed è la proposizione principale ubi dove psammetico che è questo psammetico che è un nominativo io parto subito da psammetico perché vedo che è un nominativo quindi dovendo partire dal soggetto e questo ubi ci dice che siamo in una subordinata una subordinata locativa introdotta dal dove dove psammetico attacco il nominativo rex egipziorum re degli egizi giudicava una certa controversia anche qui si potrebbe dire una controversia molto spesso l'articolo indeterminativo italiano un uno una può benissimo sostituire qui dan que dan quodam latino et e qui non inizio con soleam perché soleam è un complemento oggetto inizio con il verbo demisit lascio cadere poi vado a soleam che è complemento oggetto lascio cadere il sandano in gremium illius nel grembo di quello poi abbiamo una relativa come vedete che io ho saltato e che quam si riferisce a soleam quindi lo rimetto nella posizione di prima e lascio cadere nel suo grembo il sandalo che teneva in bocco teneva col becco qui vedete che la prima è già subito la principale non c'è nessuna particella subordinante il re stupì fu stupito set postea ma dopo e inizia un cum narrativo cum vi disset e cum laudavisset avendo visto che cosa l'eleganza e la bellezza del sandalo e avendolo lodato vedete che ho un più che perfetto congiuntivo che io traduco con gerundio composto e poi qui ci aggiungo un lo quelle particelle pronominali che spesso il latino sottointende e avendolo lodato e questo è il cumpio congiuntivo tutta la proposizione del cumpio congiuntivo ritorniamo alla precedente ma postea ma dopo e mi trovo puellam puellam è un accusativo quindi non posso iniziare di lì poi c'è una relativa a cui us era solea eccola qui la coordinata sed postia puellam conoscere optavit ma in seguito desiderò conoscere quella la fanciulla cui us era solea di cui era il sandalo imperavit digitum legati suis ut per totum regnum puellam quererent comandò pertanto ai suoi legati mi raccomando anche se può sembrare una finale non è una finale andate a vedere la lezione completa sul mio manuale di latino dove si parla del lut e come si traduce lut qui provate a farlo d'orecchio come diciamo in italiano comandò pertanto ai suoi ambasciatori affinché cercassero o diciamo pertanto comandò i suoi legati di cercare noi mettiamo di cercare quindi è un'esplicativa questa è una dichiarativa e spiegano in che cosa consiste l'ordine e noi lo traduciamo col di non affinché che assolutamente non va bene quindi comandò pertanto ai suoi legati di cercare oppure che cercassero per tutto il regno quellam la fanciulla che è il complemento oggetto qui cum eam invenissent et in urbem duxissent rex singulare pulcritudine puelle motus statim eam usone duxit dunque qui c'è il nesso relativo anche questa è una lezione che ormai potete andare a cercarla sul mio manuale e riguarda il dimostrativo più il relativo là sotto a quel capitolo abbiamo anche il nesso relativo e c'è anche la lezione non solo cartacea ma anche la registrazione il video vedete cum proviamo a tradurre prima molto letteralmente cum eam invenissent ho già detto che cum invenissent congiuntivo composto gerundio composto avendo trovato quella e il cum regge anche il duxisset e avendola condotta in città lasciamo perdere quel qui ma è sospetto questo qui perché c'è qui e poi interrotto da cum queste sarebbero due partice se questo fosse un relativo sarebbero tutte e due particelle subordinanti andiamo avanti rex il re andiamo a attaccare a rex il nominativo motus colpito da che cosa complemento di causa efficiente dalla bellezza della fanciulla stati subito duxit eam uxorem ducere ali quem uxorem vuol dire sposare qualcuno quindi subito la sposò e allora questo qui questo qui è il soggetto di invenissent cioè sta per i legati e quindi è un esso relativo è un falso relativo che si deve trasformare con una congiunzione poi un pronome dimostrativo perciò questi e come se ci fosse scritto et ei e questi però al posto della e posso trovare una congiunzione poi chiamata meglio perciò questi perciò questi avendola trovata ed avendola contato nella città anche qui se non vogliamo tenere avendola trovata dopo averla trovata e dopo averla condotta la trasformiamo in una temporale no? ecco il re mosso dalla bellezza singolare della fanciulla subito la sposò sic puella egipziorum regina aquile opera fuit così dunque qui potrebbero esserci due soggetti abbiamo puella abbiamo regina addirittura tre abbiamo opera quindi bisogna a questo punto vedere un momentino a che cosa egipziorum potrebbe essere attaccata a puella come potrebbe essere attaccata a regina opera opera aquile invece opera dell'aquila allora qui c'è un fuit quindi dovremmo già pensare ad una parte nominare oltretutto con tutti questi nominativi e bisogna anche provare un momentino così la fanciulla fuit fu regina degli egizi opera aquile opera è un complemento di strumento per opera di un'aquila per l'intervento di un'aquila allora l'ultima in Italia bellum gerimus in sede ac solo nostro dunque gerimus combattiamo una guerra in Italia in sede nella sede e a casa nostra e nella nostra terra omnia circa plena civium axo ciorum sunt sunt omnia sunt plena tutte le cose tutti i luoghi qui sta meglio mettere luoghi cose non va bene ma questo lo si capisce dopo dopo aver tradotto tutto tutti i luoghi sono attorno pieni di cittadini e di evidentemente cittadini romani e di alleati i autem nobis inadversis rebus plurima fidei documenta dederunt i è il maschile nominativo plurale di isia di id questi poi andiamo a cercare il verbo dederunt diedero poi andiamo a cercare un complemento oggetto che abbastanza è l'unico complemento oggetto che possiamo trovare qui è plurima documenta moltissime testimonianze di fede no? di fedeltà a chi li hanno dati? a noi in adversis rebus rebus asversis sono in situazioni critiche no? nelle avversità semplicemente migliores prudenziores costanziores nos tempus facit allora tempus tempolis è il nominativo soggetto di facit il tempo fa noi migliori più prudenti e più costanti lo vedremo oggi ma notate che qui c'è un complemento predicativo che si chiama complemento predicativo dell'oggetto andate a vedere la 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 trattazione del complemento predicativo eh sull'analisi sul mio l'altra cosa che ho messo da poco tempo ehm per capire cos'è il complemento predicativo non è che tutte le volte che troviamo io devo ricominciare da capo sappiate che è meglio prudenziores costanziores sono tre complementi predicativi di nos complemento oggetto quindi animal contra in ostili terra est inter omnia inimica et infesta animale al contrario attenzione che questo contra non è una preposizione impropria che regge l'accusativo infatti vedete che non c'è accusativo dopo è un avverbio contra può essere preposizione impropria e regge l'accusativo oppure può essere avverbio non regge proprio un bel niente a livello al contrario est si trova inter ostili in una terra ostile inter tra inter omnia inimica et infesta nulle eum urubes accipium nulla moigna nulle urubes notate che nullus nulla nullum in latino anche è plurale in italiano nessuno io non ho il plurale nessuni quindi che ci piacciono nessuno in italiano è un singolare tanto c'ha solo il singolare e quindi qui ha tradotto accolgono però non si può tradurre accogliere perché nulle urubes è nessuna città non posso mettere nessuna città accolgono lui nessuna città lo accoglie in italiano devo far mettere il singolare nulla moigna nessuna 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 minia in italiano è un plurale a tanto come faccio e neppure le mura perché nessuna mura non posso metterlo avete capito qual è il problema che nessuno in italiano è un singolare a tanto menia in italiano è un plurale a tanto cioè in italiano dico le mura di una città le mura al plurale e nessuna l'italiano o solamente il singolare o nessuno o nessuna quindi non lo accolgono nessuna città e neppure e neppure le mura mettiamo nil usquam sum avet avet nil sum non ha nulla di suo usquam in nessun luogo partem vix terziam exercitus eius abet quem avi spagna adduxit abet sempre annibale il soggetto a che cosa la astento la terza parte del suo esercito esercitus fate attenzione ecco qui potrebbe essere un problema perché uno potrebbe pensare che esercitus è il soggetto di abet e invece no esercitus è dalla quarta declinazione per cui questo esercitus è un genitivo quindi annibale ha astento la terza parte del suo esercito che adduxit ha condotto dalla Spagna plures fames quam ferrum ad sumxit nec is paucis iam victim suppeditat dunque il soggetto di absumsit è fames è l'unico soggetto al nominativo singolare la fame absumsit vuol dire fece morire più che il ferro quindi la fame si prese dei suoi soldati si prese più soldati che la spada nec nec ormai ormai il vitto non è sufficiente a questi pochi certe certe eum prudenzia e puntazione superabimus qui in dies se nescit certe è un avverbio certamente superabimus è un predicato verbale prima persona plurale quindi siamo noi soggetto supereremo lui e questi sono complementi di strumento con la prudenza e il temporeggiare e temporeggiando e con la pazienza potremmo mettere quindi eum qui lui che in dies vuol dire di giorno in giorno se nescit si indebolisce ec una nobis salutis est via paole o paolo complemento di vocazione non c'è dubbio perché è uscita in e quindi seconda declinazione l'uscita in e è solo in vocazione dunque una via salutis est nobis ec una via salutis est nobis questa sola via di salvezza è a noi e di nuovo come altre volte un dativo di possesso per cui quel nobis che in latino è dativo di possesso diventa un soggetto noi abbiamo questa sola via di salvezza o paolo o arriveremo poi all'altra lezione dunque questa lezione sarà piuttosto pesantuccia perché vedete tutte le cose che si devono fare allora sia le coniugazioni la forma passiva il participio perfetto il gerundivo il supino passivo e questi complementi sono tutti presenti o nel quello che nel lavoro pratico di latino oppure nell'altro di analisi e tutti hanno già la loro registrazione io tuttavia prendo l'occasione per darci uno sguardo anche qui però la le cose secondo me sono abbastanza chiare forse più chiare e più sistemate dunque il passivo in latino qui sono le quattro coniugazioni allora io vi direi di fare una cosa non mettetevi a studiare tempo su tempo come se fossero tutti i compartimenti stagni per poter conoscere bene il passivo noi dobbiamo evidentemente conoscere in modo perfetto l'attivo se conosciamo in modo perfetto l'attivo è una stupidaggine ricordando una cosa che il passivo in italiano si fa col verbo essere sia i tempi semplici che i tempi composti ad esempio io sono lodato io sono stato lodato i tempi semplici in latino hanno una loro forma particolare non vengono fatti col verbo essere in che modo vengono fatti vediamolo qui iniziamo col verbo con il verbo amare indicativo presente l'indicativo presente è come fa all'attivo amo ama samat amamo samati samat allora per farlo diventare passivo noi ad orecchio ad orecchio inizialmente no poi controlliamo dobbiamo aggiungere r ris tur mur mini un tur amo ravari samatu ravamolo mammi amanto guardate che sono tutti così vedete r ris tur mur mini un tur r ris tur mur mini un tur come fa monio all'imperfetto monè bam invece di me fare monè bam faccio monè bar e poi vado avanti monè bar monè baris monè batur monè bamur monè bamini monè bantur è evidente che io devo conoscere l'attivo perché se non conosco l'attivo non riesco a fare questo lavoro in ogni caso quando voi vedete r ris tur mur mini tur è forma passiva sono i tempi semplici passivi latini vedete qui il futuro che cambia per la prima seconda terza e quarta coniugazione amabo ci aggiungo una r amabor qui invece che fa legam leges legam invece di legam legar poi cambia invece di fare legaris fa invece di fare l'attivo da legam diventa leges quindi leggeris leggeto leggemo leggemo leggeto l'attivo fa audiam audies audiet audiar audieris audiet audiem audiem audient bisogna solamente prenderci il giro e per questa strada non diventa eccessivamente difficile ci sono alcune cose che cambiano ad esempio nella terza coniugazione vedete l'attivo fa legolegis qui avrebbe dovuto fare legor legiris fa leggeris questa è la seconda persona seconda persona presente della terza coniugazione invece di fare legor legiris dopo diventa legitur ma la seconda fa leggeris poi la seconda persona del futuro dovrebbe fare amabo amabis invece vedete che fa amabe monebo monebis invece fa monebe sono poche le persone che sfuggono no amabor invece di fare amabiris fa amaberis e poi amabitur amabimur amabimini amabuntur quindi guardate questa seconda persona del futuro prima e seconda coniugazione guardate la seconda persona il resto basta conoscere l'attivo e aggiungerci r race tour moor meaning tour allora per quanto riguarda invece i tempi composti sono una stupidaggine perché sono uguali all'italiano vediamo un po' di capirci cosa intendo non sto parlando dei tempi semplici non sto dicendo io sono lodato io sto parlando io sono stato lodato il sono io sono lo traduco con sum lodato laudatus eccolo qui se sono femmina laudata se siamo al plurale amati o laudati se sono un plurale quelle fanciulle sono state amate amate però anche qui cosa serve serve sapere il verbo essere ma il verbo essere bisogna deve conoscere qual è l'unico problema che ci può essere nel tempo composto questo che il perfetto non traduce solamente sono stato amato ma traduce anche fui amato ricordatevi che in ogni caso la formula è questa non esiste amatus fui esiste amatus sum facciamo un altro esempio ero stato letto letto electus aum us se il soggetto è maschile singolare a se il soggetto è femminile singolare um se il soggetto è singolare neutro e poi ero ero eri eram era sera terram sera di sera attenzione stiamo parlando sempre dei tempi composti perché i tempi semplici hanno l'altra formula quindi qui cosa serve servono due cose sapere il verbo essere prima di tutto e poi conoscere il supino sapete che nel paradigma c'è laudo laudas laudavi laudatum dal laudatum io tiro fuori il partecipio passato amo amas amatum monio mones moni monitum lego legis legi lectum e qua cosa serve quel supino quel supino serve l'avevamo già visto per le infinitive per fare l'infinito futuro l'avevamo visto per fare il participio futuro adesso ci serve per fare il participio passato il participio passato che in latino ha sempre il valore passivo ma questo lo vediamo dopo la stessa cosa vale per il congiuntivo qui abbiamo contemporaneamente il congiuntivo semplice con l'oggettivo composto come fa amo al congiuntivo amem ames ametamem sametis ametum eccolo qui ame rametis ametum ametum è sempre la stessa cosa r ris tur mur minitur monio come fa l'attivo moniam moniar moniaris moniatum moniaris e qui abbiamo il perfetto e il più che perfetto sempre con lo stesso sistema quando abbiamo il composto no io sia stato avvisato devo tradurre sia simsissit e avvisato monitus studiateli in blocco non studiate le cose separate ripeto però come premessa è necessario conoscere bene l'attivo e il verbo essere qui c'è l'imperativo ma guardate non esiste l'imperativo non viene mai usato l'imperativo passivo lasciatelo perdere poi è importante vedere questa roba qui perché perché noi abbiamo studiato le infinitive cioè l'accusativo più infinito ma l'abbiamo visto abbiamo visto soltanto l'infinitive col verbo all'attivo potrebbe anche esserci il verbo al passivo e allora l'infinito presente passivo è amari da amare diventa amari da monere moneri da udire a udiri attenzione a questo della terza che non fa ari eri iri fa i e in questo caso questo legi potrebbe essere confuso con il perfetto leggo legis legi io lessi ma legi può voler dire anche essere letto poi c'è il perfetto che corrisponde al nostro essere stato amato ed è la cosa come l'altra eh amatum esse amatum 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 esse perché essere si traduce a esse la novità qui che qual è è che c'è anche l'infinito futuro come nel lattivo e l'infinito futuro è indeclinabile quindi basta prendere il supino amatum montum lectum auditum e metterci iri se voi trovate un infinito futuro passivo siete sicuri che siete in infinitiva attenzione però che questo um rimane invariabile poi abbiamo il participio passato come in italiano l'abbiamo già visto lo si prende direttamente dal supino soltanto che il supino rimane forma invariabile il participio passato si comporta come un aggettivo della prima classe amatus amatamatu monitus aum lectus aum eccetera poi c'è il supino passivo vi ricordate che il supino attivo corrisponde ad una finale il supino passivo che non esiste in italiano vuol dire ad essere amato dunque ad essere avvisato letto ad essere letto ad esempio questo libro è difficile ad essere letto ad essere letto si traduce con lectu infine c'è il gerundivo e sul gerundivo che non è il gerundio e che ha sempre valore passivo io vi prego di andare a vedere la mia lezione che è completa e che tocca gerundio e gerundivo nel mio manuale di latino c'è il cartaceo e c'è anche la registrazione qui daremo un'idea di che cos'è il gerundivo ma là la lezione è più completa secondo me dunque qui c'è un breve ripasso dice guarda che in italiano il passivo si fa col verbo essere si può fare col verbo venire ma si può fare anche col si passivante esempio gli scolari dirigenti sono lodati e passivo sono lodati ma il passivo lo posso fare anche col verbo venire gli scolari dirigenti vengono lodati ma il passivo in italiano si può fare anche col si passivante si lodano gli scolari dirigenti questo si lodano vale per sono lodati in latino abbiamo solo una forma discipuli dirigente sono lodati laudatur terza plurale rristur murmuring quando vedete uscire la finale con n t u r vuol dire che una terza persona plurale i verbi intransitivi possono avere il passivo no perché se sono intransitivi non li si può fare diventare passivi anche qui nell'analisi che ho anche quel manuale che ho messo da poco tempo sul sito si parla di questo si passivante il si passivante il si impersonale il si riflessivo andate a vederlo e allora come mai noi parliamo di forma passiva dei verbi intransitivi abbiamo la forma passiva dei verbi intransitivi quando si deve tradurre una forma impersonale italiana come ad esempio si combattè aspramente attenzione che questo si non è un si passivante è un si impersonale si combattè perché impersonale perché il verbo combattere non ha soggetto allora non si combattè si combatte si combatte cosa faccio in latino per tradurre questa cosa lo metto in passivo in forma passiva terza persona singolare se fosse un composto come in questo caso neutra quindi pugnatur acriter si combatte aspramente andate a vedere per favore nell'analisi tutte le possibilità di possibilità del si ma poi andate anche adesso mi è venuto mi sfuggito andate anche a vedere ah ecco andate anche a vedere sul manuale di latino la forma passiva cioè in latino quando noi troviamo la forma passiva non è detto che sia sempre un passivo la forma passiva viene utilizzata in modi differenti questo è un esempio è una forma passiva questa sì ma il verbo ha significato passivo no è un verbo impersonale che per essere impersonale adotta la terza persona singolare passiva neutra se composto quindi qui ci sono tante cose da rivedere sui miei manuali ci sono da vedere la differenza tra si passivante si impersonale e vedere anche tutte tutti i significati magari per un primo momento fermatevi ai primi due o tre di quando io trovo un passivo in latino non è detto cioè ripeto per l'ultima volta che alla forma passiva corrisponda anche il significato passivo questo è un esempio forma passiva ma significato impersonale poi beh è chiaro una cosa lasciate perdere queste cose dunque si ricorda che soli i verbi transitivi possono divenire passivi vabbè questo è chiaro l'abbiamo già detto niente queste sono cose che potete lasciare perdere andiamo avanti ecco anche sul complemento di agente e complemento di causa efficiente nella nostra analisi quel manuale di analisi è trattato da agente e causa efficiente dunque se non c'è verbo passivo non c'è complemento d'agente causa efficiente sostanzialmente il complemento di causa efficiente d'agente sono quelle persone animali cose che fanno l'azione subita dal soggetto in una proposizione passiva quindi se il verbo non è passivo non ci possono essere questi due complementi quindi in latino il complemento d'agente si traduce con un abblativo l'agnello è sbranato dal lupo da gente è sempre un essere animato quindi o una persona o un animale è sbranato l'agnello agnus è sbranato l'agnatur l'agnatur da chi? a lupo a più l'avlativo il mare è sconvolto dai venti dai venti è una causa efficiente è una causa efficiente non fa abblativo ma fa abblativo semplice mare agitatur vedete la forma passiva tur r ris tur tur è la terza persona singolare è agitato perché fosse attivo sarebbe agito agitas agitat agito agitaris agitatur la forma passiva dai venti causa efficiente poi qui chi ricorda come trasformare una frase d'attivo in passiva questo lo vedete voi ricordatevi che in latino il participio perfetto ha sempre valore passivo e quindi esiste solo con i verbi transitivi ecco quando in italiano si trova il participio passato di un verbo intransitivo non si può quindi usare il corrispondente participio latino che non esiste nei verbi intransitivi a meno che venga usato in forma impersonale abbiamo detto ma si deve ricorrere ad una perifrasi comunemente si trasforma il participio passato italiano in un gerundio composto cioè vediamo di fare un esempio un esempio molto semplice Cesare giunto a Roma vedete giunto a Roma giungere è un verbo intransitivo perché io giungo che cosa non c'è il complemento oggetto pervenio è il verbo che corrisponde a giungere in latino pervenio pervenis perveni pervento pervenire io non posso tradurre cesar perventus perché innanzitutto non esiste come participio passato ma poi avendo valore passivo come faccio a far diventare passivo il verbo giungere allora come lo svolgo invece di tradurre Cesare giunto a Roma convocò in senato io lo faccio diventare così Cesare essendo giunto a Roma convocò il senato e allora lo traduco col cum il congiuntivo cesar essendo giunto cum pervenisse trova con le regole del compio congiuntivo qui invece posso tradurlo col participio passato perché distruggere è un verbo transitivo la città distrutta dall'incendio fu riedificata allora urs refletta est fu riedificata va bene distrutta dall'incendio delio 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 incendio a causa efficiente incendio urs deleta incendio refletta est fu riedificata vedete che è un passivo tempo composto quindi è come se ci fosse scritto è stata riedificata è est refletta e poi abbiamo visto già prima il passivo cosa mirabile a vedersi ora cosa viene sottinteso nell'aggettivo che viene messo a neutro e si traduce mirabile a vedersi viso non è un viso mirabile qui non è una faccia mirabile qui vuol dire cosa mirabile a vedersi dunque io vorrei che voi andaste a vedere la mia trattazione sul gerundio gerundivo che è completa il gerundivo qui semplicemente scritto è una forma che sostituisse il gerundio sostanzialmente anche il gerundivo corrisponde in italiano ad un infinito a volte però non si può usare il gerundio allora si usa il gerundivo e quando si usa il gerundivo questa è la norma il nome che fa da complemento oggetto va nel caso in cui dovrebbe andare il gerundio il gerundio si trasforma in gerundio e si concorda in genere numero con il nome tale costruzione è facoltativa per il genitivo e l'ablativo semplice obbligatoria per il dativo per l'accusativo con ad e per l'ablativo preceduto da preposizione voi non ci avete capito niente la però la lezione è completa vediamo in ogni modo qualche cosa qui è il gerundio la speranza di liberare la patria l'abbiamo già saputo questo lo dovreste già saperlo di liberare di liberare in latino corrisponde al genitivo del gerundio spes liberandi patria la stessa cosa si può tradurre col gerundio però attenzione cosa succede la speranza rimane così la speranza di liberare la patria fate attenzione a quello che sto dicendo patria prende prende il caso di liberare liberare in genitivo anche patria per genitivo libero prende da patria il genere e il numero patria è singolare femminile anche libero perché il gerundio è declinabile non è come il gerundio che è declinabile e viene fuori spes patria liberante il gerundio ci si accorge che c'è la costruzione del gerundio innanzitutto perché questo è declinato perché non so se ci fosse esempio scritto la speranza di liberare di liberare che cosa i servi viene fuori spes liberandorum servorum servi va al genitivo servorum come libero ma libero prende il genere e il numero da servi quindi di tutte e due vanno al genitivo maschile plurale qual è la cosa importante nella traduzione dal latino è questa che tutte le volte che io trovo un gerundio convicino un nome nel suo stesso genere numero caso questo nome è il suo complemento oggetto la speranza di liberare che cosa la patria mentre qui nel gerundio patria ma rimane il complemento oggetto qui invece il complemento oggetto vanno tutti e due nello stesso genere come lo caso utile a coltivare il campo ecco qui nel dativo uno dice ma in gerundio c'è nel dativo sì ma quando ho il nome il complemento oggetto espresso quando ho il complemento oggetto espresso non posso mettere l'indativo devo mettere il gerundio utilis di nuovo colendo il complemento di fine in questo caso si traduce con l'infinito a coltivare che cosa è il campo perché questo adro messo nello stesso genere numero caso di colendo è il suo complemento oggetto anche con ad l'accusativo quando c'è il complemento oggetto espresso sono obbligato a usare il gerundio pronto a liberare ad liberandam urbem la città complemento di fine anche questo perché il complemento di fine può essere tradotto con il dativo ma anche con l'accusativo poi consumo il tempo tempus consumo libris legendis in questo caso invece siamo elaborativo elaborativo semplice lo posso fare come genitivo quando c'è evidentemente il complemento oggetto espresso perché quando non c'è il complemento oggetto espresso io sono obbligato a tradurre tutto il gerundio quando c'è il complemento oggetto espresso posso fare sia usare il gerundio sia usare il gerundivo consumo il tempo leggendo i libri questo lo dovreste già sapere nel leggere con leggere i libri oppure consumo tempus legendis libris vedete va in ablativo tutti e due vanno in ablativo perché leggendis è in ablativo e tutte e due al maschile plurale perché liber è al maschile plurale quando invece l'ablativo ha una preposizione davanti e c'è sempre il complemento oggetto sono obbligato a tradurre il gerundivo un grande piacere e tratto da che cosa complemento di origine dal leggere i libri di nuovo il gerundivo che si traduce con l'infinito libri complemento oggetto nel suo stesso genere numero caso andate a vedere anche l'altra lezione e mi pare che ci siano anche delle esercitazioni a questo proposito sul gerundio e gerundivo come ultima cosa questa lezione c'è il complemento di allontanamento anche sul complemento di allontanamento io vi inviterei a vedere la mia analisi il complemento di allontanamento che si confonde spesso con il complemento di moto dal luogo perché vedete qui un esempio molto semplice allontanarsi dalla città uno dice dalla città complemento di moto dal luogo ma quando è retto da verbi allontanare cacciare liberare astenersi separare dividere viene chiamato complemento di allontanamento di separazione allora non è più un complemento di moto dal luogo quindi si traduce in avlativo preceduto da da ab o da ex e uno dice ma che differenza c'è anche il complemento di moto dal luogo si traduce con ab ex e il fatto è che se io lo considero come complemento di allontanamento anche se c'è un complemento di città o di piccola isola io lo traduco con lab mi allontano non so da Roma dato che non è un complemento di moto dal luogo ma è un complemento di allontanamento io traduco a Roma e non semplicemente Roma allontanarsi della città cedere esurbe quindi liberare uno dalla schiavitù liberare aliquem servitute se il complemento di allontanamento è formato da un nome di persona si traduce con un avlativo altrimenti se un nome di cosa per lo più con l'avlativo semplice ma direi andate a vedere anche qui le regole che ci sono studiatele perché questa lezione è pesantuccia e riguarda in modo particolare tutto ciò che è legato al passivo legato al passivo c'è il participio passato c'è il gerundivo c'è il supino passivo e quindi sono tutte cose assieme ai vari complementi quali da gente causa efficiente che si devono conoscere e perdonatemi se questa lezione è così pesante però io ho idea che se la coniugazione passiva come vedremo poi quella deponente la si fa tutta assieme è più semplice che farla a pezzetti specialmente quando queste cose qui io le studiavo in seconda media in seconda media mezzo secolo fa più di mezzo secolo fa adesso chi prende in mano queste cose ha già una certa età minimo minimo a 14-15 anni se non se non ne ha di più molti di più secondo e quindi si ha la capacità a una certa età di sintetizzare e di cogliere i legami non studiare i tempi a compartimenti stani ma dire io devo sapere bene gli attivi gli attivi dagli attivi io in automatico ho il passivo a parte qualche regoluccia qualche eccezione che ho fatto notare a parte che ha l'escriz fa attivate un po' Grazie.